sono a forma e funziona, ciao Marilena Sparano, allora iperlogico fidanzato dice di non poter fare a meno di me, ah già iperlogico fidanzato dice di non poter fare a meno di me, ti racconto una palla grossa come una casa, ti racconto una palla grossa come una casa, non temi il giudizio degli altri, sono tutte scuse, è che non è innamorato di te, non è innamorato di te, beh dipende se, beh ovviamente puoi essere geloso dell'antagonista, l'antagonista funziona e tu dirgli che a lui non gliela dai più, la dai solo all'antagonista, gli guarda io te ti vedo come un amico, perché ormai ho trovato il, come si chiama, un black and hacker, ho trovato un black and hacker, metti come antagonista un black and hacker e via.